E' un po' un coglione, o? Hai colpa tua e parli pure? Arma! Cazzo! Ciudate, siamo sbagliati, abbiamo buttato una cosa e ne ha spazzato un'aria che mi potrebbe tapire il diario gentilmente per controllare. Dammi una mano! Ma non sono mica rincoglionita come te. Hai fatto come ti ho detto? Hai giocato i soliti numeri? Guarda che quella macchina ti arcana. Poi l'inseguimento come lo fate? A piedi? Non ti preoccupare, nonna. Ora ci penso io. Allora devi scoprire immediatamente chi ce l'ha, tesoro mio. Chi ce l'ha? Chi ce l'ha? Chi ce l'ha? Cioè? Chi ce l'ha? Chi ce l'ha? Che se lo siamo persi? La cestina vincente, per chi non la sapesse, i numeri sono 48. Cristia? Cristia, vedete? Nonna, nonna, ti giuro che l'ho giocata. Madonna, quant'è imbecila di questo. Cristia, non hai messa? Se non sapete a messa, sta ricevuta. Papà, adesso basta giochi dai ragazzini. Stammi a sentire. Tu non sei bevava uscita da tua madre. Manco da tuo padre, specialmente. Sì, Vittoria, ma di che parlate? I soldi? Quali soldi? Per giocare? Metticeli te, poi te li dammi madre. Ma è possibile che in questa famiglia... E dai! Che famiglia de merda. Pag.